Sono 318 nuovi casi di covid in Abruzzo, il 3,4% dei 9.312 test processati nelle ultime ore, di cui 4.111 tamponi molecolari e 5.201 test antigenici. Dei contagiati, il più anziano ha 101 anni, il più piccolo sei mesi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1.375, d'età compresa tra 61 e 91 anni, 6 in provincia di Chieti, 3 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione. Del totale odierno, 8 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 462 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.499 positivi accertati, meno 161 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Di questi, 441 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 40, meno tre rispetto a ieri, con quattro nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.018, meno 157 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con una sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Grazie.